Brutto incidente nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 1 aprile, a Salassa, intorno alle 18.30 nei pressi della rotatoria di Violianico. Uno scooter 50 Yamaha guidato da un 15enne di Fabria si è scontrato con un Fiat Punto condotto da un ragazzo di Ozzegna. L'impatto è stato violento, tanto che i soccorritori della Croce Bianca del Canavese, dopo aver stabilizzato il giovane, hanno eseguito un rendezvous con l'elisoccorso del 118 nei suoi prati adecenti l'SP 460, per ritrasportare il giovane Centauro al CTO, con probabile frattura al femore. Per il conducente della Punto, invece, una leggera contusione alla mano. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Quornier. Grazie a tutti, grazie a tutti.